ed eccola belen si vede che disegna e sembra che sia lei con un messaggio per stefano de martino belen scrive e io lo sapevo già con tanti puntini di sospensione tu sorridi sempre e questo il messaggio che ha mandato a stefano de martino belen oltre a questo messaggio mette un hashtag co scritto sesto senso delle donne forse ha ragione fabrizio corona dove il rapporto tra belen e stefano già era finito da un po di mesi anche perché stefano così come riportato da corona già l'attrativa